Una candidatura nel segno dell'entusiasmo e della voglia di fare, Marco Nilo, già consigliere comunale e ora candidato per l'assise cittadina nelle liste di patto per Taranto, a sostegno del candidato sindaco Walter Musillo, ha spiegato i motivi del suo rinnovato impegno per la città e i suoi programmi per il futuro nel corso di un incontro che si è tenuto nella terrazza gremita della Salina Hotel. Assieme a Musillo ha partecipato all'incontro anche il presidente della provincia, Giovanni Gugliotti. Un lavoro fatto di determinazione, un lavoro fatto con passione ma soprattutto con competenza. Dall'opposizione sono riuscito a realizzare risultati importanti per la mia città e oggi mi ripropongo la mia città con un bagaglio esperienziale importante proprio per gestire la svolta di Taranto. E lo faccio mettendoci la faccia insieme a Walter Musillo, il mio candidato sindaco, che sicuramente saprà cambiare positivamente le sorti della nostra città. È una squadra valida che intende dare il suo contributo per il territorio, il suo contributo per Taranto, per migliorarla ma soprattutto per correre tutte le opportunità che nel prossimo futuro Taranto avrà. Marco Nilo è un ragazzo straordinario, è un ragazzo a cui voglio bene, è inutile nasconderlo. Al di là della politica, al netto della politica, quando incroci una persona e la guardi negli occhi e ti dà l'impressione, l'effetto che ti dà Marco Nilo, allora questo già basta. Questo ti fa sentire felice, soddisfatto di aver fatto politica. Marco è un ragazzo straordinario, sta facendo un bel lavoro.